Le note del pianoforte che avvolgono le strade cittadine con Vico del Gargano trasformato in una gigantesca sala da concerto nel ribattezzato Borgo dell'Amore, strade, giardini, piazze e musei. Sono state avvolte dalle note del pianoforte per un accordo perfetto che ha attraversato Largo del Conte, Piazza Castello, Piazzetta Terra, Piazza San Domenico fino a Palazzo della Bella. In ognuna delle location le suggestive melodie suonate da autentici big del settore ma anche da giovani talenti. Una idea diversa per abbinare turismo e cultura con tanti visitatori che hanno riempito nel fine settimana il piccolo centro garganico per un evento ormai di respiro internazionale denominato Piano City Vico. Siamo felicissimi di aver avuto la possibilità di poter ospettare questa importante manifestazione e abbiamo dislocato nel centro storico una serie di pianoforti anche in varie piazze del nostro paese trasformando il nostro paese in un teatro a cielo aperto. Un vero e proprio festival diffuso di pianoforte e iniziativa che ha trovato la partecipazione del teatro pubblico pugliese della regione Puglia e di Puglia Promozione. La musica che va incontro alla gente attraversando le piazze, le case e gli spazi non convenzionali per una a due giorni che ha calamitato tanta gente nell'ottica di favorire quel processo di destagionalizzazione che spesso, soprattutto sul Gargano, resta solo nelle intenzioni.